Diminuiscono ancora i prezzi degli alloggi in vendita e secondo l'Istat scende il numero delle abitazioni vendute specie per quelle non nuove. Paolo Volpato. Vendere la casa è più difficile nelle province che nella grande città. Ce lo dicono i dati di una grossa agenzia immobiliare che periodicamente valuta l'andamento del mercato. Torino raccoglie il 76% degli alloggi in vendita. Qui il calo dei prezzi nel secondo trimestre del 2014 è stato del 3,4%. Complessivamente se si prende come riferimento lo stesso periodo dell'anno scorso, a livello regionale i prezzi sono scesi in Piemonte del 4,3%. Mentre se si guarda solo all'andamento trimestrale il calo è del 2,1%. Questi dati pubblicati da un'agenzia immobiliare segnano una riduzione maggiore di quella rilevata da altre fonti che non hanno diretti interessi commerciali nel settore. Analoghe e tempestive statistiche vengono diffuse dall'Istat, dall'Agenzia delle Entrate, da Nomisma, dall'Osservatorio Immobiliare di Torino, strumento di cui fanno parte il Politecnico, il Comune e la Camera di Commercio. Da queste fonti, più imparziali per definizione, risultano valutazioni più complesse e approfondite. Per esempio a Torino i prezzi risultano del 15% superiori alla media regionale, ma ci sono alcuni dati condivisi da tutti. Il calo dei prezzi si accompagna alla deflazione o recessione tecnica prodotto interno lordo e si sta affermando da 4 anni. Inoltre scendono soprattutto i prezzi delle case usate.